Buonasera signor Ministro, eccolo qua. Buonasera e grazie tante per essere ancora qui. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Ministro. Allora, cerchiamo di ripercorrere con lei i dati, a cominciare dai dati di oggi, per capire come stanno le cose, per davvero, perché come ho cercato di dire molte volte, il disorientamento è abbastanza, diciamo, frequente in queste settimane. Davvero la curva si sta raffreddando intanto, signor Ministro? Ma intanto io partirei dal dire che la situazione è molto seria e non può assolutamente essere sottovalutata. I numeri del contagio ci segnalano ancora quantità di nuovi casi altissime, anche un numero di decessi che deve farci riflettere. Oggi quasi 600 persone hanno perso la vita, quindi il contesto non è assolutamente un contesto facile. E' chiaro che però da due settimane vediamo degli elementi in controtendenza. L'RT, che è l'ormai noto indice del contagio, indice di trasmissibilità del contagio, nelle ultime due settimane è sceso. Era prima 1,7, poi è diventato 1,4, negli ultimi giorni 1,18, e i nostri tecnici pensano che potrà ancora scendere nei prossimi giorni. Questo significa che le misure che abbiamo attuato con questo modello che prova a evitare il lockdown generalizzato per tutti e dappertutto, ma che prova a distinguere aria per aria, territorio per territorio, sta dando i primi effetti. Ma vorrei essere chiaro, sono ancora i primissimi effetti, non sono ancora sufficienti, bisognerà ancora resistere e tenere duro. Abbiamo visto in estate come ci vuol poco e il virus riparte con grandissima velocità. Per questo io dico che ci fronteggiamo con due verità. Da una parte la verità di una curva che dà qualche segnale incoraggiante, perché è vero che l'RT sta crescendo, è vero che il numero di accessi alle terapie intensive in aria medica si sta riducendo rispetto alle settimane precedenti. Ma c'è anche un'altra verità, che sono ancora numeri imponenti. Non sono numeri che possono assolutamente farci abbassare la guardia. Sarebbe un errore grave e noi non dobbiamo commetterlo. Quindi continuare questo lavoro, continuare con le misure, che ahimè sono l'unica nostra arma in questo momento. Poi arriverà un vaccino, ci saranno delle cure certe, però in questo momento l'unica cosa che funziona, e ce lo dicono tutti i paesi del mondo, è esattamente costituita dalle misure restrittive, che so bene che comportano sacrifici, ma in questo momento non c'è alternativa a questi sacrifici se vogliamo evitare un numero di decessi ancora più alto, un numero di contagi ancora più alto, e una pressione che diverrebbe insostenibile sulle nostre strutture sanitarie. Allora, infatti, lei ci dice quanto ci ha appena detto, ma noi siamo anche tutti i giorni poi ad ascoltare, soprattutto da alcune regioni, di quelle peraltro in zona rossa, la richiesta invece di allentamento. Lasciamo la zona rossa, vale soprattutto per la Lombardia, per il Piemonte. Ecco, secondo lei, lei ha messo un'ordinanza invece per ribadire che fino al 3 dicembre non cambierà niente, ma voglio dire, secondo lei ci sono, come si spiega lei appunto di fronte a questi dati che evidentemente le regioni conoscono ben meglio e ben prima di noi, che ci siano invece queste richieste che vanno in direzione contraria? Io credo che dovremo valutare con grande attenzione ancora i numeri dei prossimi giorni. È chiaro che fare una zona rossa, e io ho dovuto firmare tante ordinanze in queste ultime settimane, produce dei sacrifici ed è evidente che questi sacrifici non sono indifferenti, quindi è persino comprensibile che un territorio voglia a un certo punto uscire dalle zone rosse. Però io dico, svolgiamo con grande attenzione e con grande prudenza i passaggi uno per uno, perché è chiaro che anche nelle zone che avevano l'RT più alto, faccio un esempio, Lombardia e Piemonte, quando sono entrate in zona rossa, avevano un RT ben superiore a 2, oggi sono di poco superiore a 1, io mi auguro che nei prossimi giorni si possa scendere ancora, perché non basta essere di poco superiore a 1, dobbiamo andare ben sotto l'1 se vogliamo risolvere il problema. Allora io dico, attenzione, prudenza, cautela, le misure messe in campo stanno dando i primi risultati, i risultati però ancora non bastano, abbiamo bisogno di discutere e di ragionare chiaramente con i nostri scienziati e con i nostri tecnici. Io come noto ho sempre evitato ogni tipo di polemica, io penso che di fronte ad un'epidemia il Paese deve camminare unito, io lavoro gomito a gomito con tutti i presidenti di Regione senza nessuna distinzione politica, sarebbe folle di fronte ad un'epidemia farsi prendere dalle polemiche e io su quel terreno non ci vorrò andare mai. È chiaro che nei prossimi giorni sulla base dei dati e dell'evidenza scientifica che ci ha guidato sin dall'inizio e che deve continuare a guidarci, noi possiamo fare delle scelte e ponderare le decisioni che sono decisioni da assumere con la massima prudenza e per me la linea resta quella della massima cautela. Allora, Ministro, il Commissario Arcuri ha detto che i posti delle terapie intensive sono aumentati che non c'è pressione. L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali la pensa diversamente, in 17 regioni si è superata la soglia critica di occupazione del 30%, arrivano addirittura notizie di carenza di bombole di ossigeno. Io le vorrei mostrare queste immagini per cercare davvero di orientarci in questo disorientamento di cui le parlavo prima. Mandiamo le immagini. Andiamo ordinati. In terapia intensiva oggi ci sono 3.400 persone. Le attrezzature per le terapie intensive disponibili negli ospedali italiani sono 9.200, poco meno di tre volte di più. Con tutto il rispetto per il Commissario Arcuri ma torturare i numeri fino a farli confessare cioè per dire quello che si vuole dire non è un esercizio di stile che in questo momento aiuta il Paese. Viene affermato da più parti che la pressione sulle terapie intensive sia sostenibile. In realtà le regioni rosse vedono una pressione quasi insostenibile. Le regioni arancioni la vedono molto ma molto pesante. In vista della campagna di immunizzazione molti si chiedono se non si sia corso troppo preparando un nuovo prodotto in appena 10 mesi. A scatenare le polemiche il microbiologo Andrea Crisanti che dice non sono Novax ma senza dati io non farei il primo vaccino. Oggi si sono lette delle affermazioni o delle dichiarazioni attribuite anche a colleghi che non esito a definire sconcertanti. Ecco noi abbiamo fatto un piccolissimo e brevissimo lavoro di sintesi ma come ben sa è quello di fronte al quale ci troviamo noi cittadini semplicemente leggendo i giornali o accendendo la televisione. Cioè su ogni argomento ci sono come è abbastanza prevedibile non solo opinioni ma anche proprio prese di posizioni contrarie è molto difficile appunto orientarsi. Possiamo avere da lei una parola definitiva appunto sulla situazione? Sì con molto piacere intanto sulle terapie intensive il dato di fatto è che c'è una pressione molto forte guai a sottovalutarla è una pressione molto forte che il nostro servizio sanitario nazionale sta comunque sostenendo e se avessimo avuto questi stessi numeri e li abbiamo avuti il picco nella fase precedente fu di 4.000 terapie posti letto occupati in terapia intensiva nella fase della primavera scorsa oggi non siamo distanti da quel picco abbiamo qualcosa che sta intorno ai 3.700 posti letto occupati in terapia intensiva con questi numeri se avessimo avuto solo la dotazione strutturale della primavera scorsa avremmo dovuto fare immediatamente il lockdown generalizzato possiamo evitare di farlo perché nel frattempo il paese si è dotato di nuove infrastrutture è un po' più forte ma questo non significa che possiamo permetterci ancora un'impennata dei posti letto in terapia intensiva e tra le buone notizie degli ultimi giorni c'è quella che il numero di nuovi posti letto in terapia intensiva occupati è leggermente sceso cioè continua ad essere con un segno più però per fare un esempio ieri c'erano 10 posti letto in più occupati abbiamo avuto giorni in cui c'erano 120-130 posti letto in più occupati quindi la verità qual è? è che la situazione è molto seria quindi guai a sottovalutarla ma il paese oggettivamente più forte rispetto a quanto fosse a marzo sulla seconda parte del servizio invece mi faccia dire con franchezza come la penso io penso che i vaccini siano stati una conquista fondamentale della storia dell'umanità non voglio usare parole troppo retoriche o forse che possono suonare troppo altisonanti ma grazie ai vaccini nella storia dell'umanità nella storia recente chiaramente sono state salvate la vita a migliaia migliaia direi milioni di persone e quindi attenzione a dare messaggi sbagliati sui vaccini noi siamo alla vigilia di una campagna mondiale che sarà forse una delle più grandi che si sia mai viste e che ci consentirà un po' alla volta anche perché non c'è la bacchetta magica e anche il vaccino da solo non riuscirà sì che è semplicita risolvere tutti i problemi ma a combattere in maniera efficace un virus che ha prodotto morte che ha prodotto sofferenze che ha fermato le relazioni tra le persone che ha bloccato l'economia la socialità e quindi io penso che sul vaccino dobbiamo dare parole molto molto chiare nel vaccino c'è un'arma fondamentale per vincere contro questo virus e io ho massima fiducia nelle istituzioni preposte per avere l'ok dell'EMA che è l'Agenzia Europea dei medicinali o di AIFA che è la nostra agenzia del farmaco ma anche delle altre grandi centrali internazionali penso a quella statunitense ma a quelle dei grandi paesi del mondo c'è bisogno di processi molto rigorosi e io da componente del governo da membro delle istituzioni credo molto nelle istituzioni che fanno questo lavoro e sono sicuro che se a un certo punto queste istituzioni diranno che un vaccino è efficace e sicuro noi dobbiamo fidarci di queste istituzioni le dico di più dal mio punto di vista poi le chiedo anche delle criticità ma insomma l'argomento è molto complesso e non si può certo ridurre a un atteggiamento semplicista da parte mia ma il tema dell'obbligatorietà del vaccino insomma io non sono non mi è consentito andare contro male in autostrada ma non è una limitazione della mia libertà è una regola un vaccino dopo che abbiamo vissuto è quello che abbiamo vissuto e quello che stiamo vivendo un vaccino a disposizione che non sia obbligatorio significa che se non si raggiunge una parte significativa della popolazione questo vaccino è anche inefficace lei cosa pensa di fare al di là della campagna di sensibilizzazione perché questo vaccino abbia appunto una sua efficacia e quindi sia adottato da un numero sufficiente di persone ma intanto una prima verità e la ringrazio anche di questa possibilità perché credo che abbiamo bisogno di dare un messaggio di grande verità alle persone il vaccino arriverà siamo fiduciosi che le prime dosi possano arrivare già all'inizio dell'anno ci sono buone possibilità che possano arrivare già alla fine di gennaio le prime dosi di vaccino anche nel nostro paese ma ci vorrà del tempo non sarà un'operazione immediata nella più straordinaria nella migliore delle ipotesi in Italia avremo vaccino per poter vaccinare un milione e settecento mila persone alla fine di gennaio stiamo parlando quindi di un piccolissimo pezzo dei 60 milioni di abitanti che vivono nel nostro paese poi un po' alla volta ci auguriamo che altre aziende farmaceutiche avranno approvati i loro percorsi e a primavera inoltrata potremo attivare una vaccinazione più larga più di massa più significativa all'inizio il tema non sarà l'obbligatorietà o meno su cui pure voglio dire con franchezza come la penso ma sarà invece selezionare a chi darlo qual è la priorità assoluta e noi stiamo lavorando anche in sinergia con gli altri paesi europei ad un piano la mia opinione per esempio è che sia giusto partire dalle categorie più esposte da quelle più in prima linea io penso per esempio a tutto il nostro personale sanitario che non dobbiamo mai smettere di ringraziare per il lavoro incredibile che fanno giorno e notte e poi dai più fragili ci sono dati statistici che ci dicono per esempio che se il virus lo prende una persona in età molto avanzata con altre patologie ha un rischio significativo di morire un rischio molto più alto di una persona che ha meno anni e che non ha le stesse altre patologie allora a me sembra razionale partire dal dare questo scudo questa possibilità in più di protezione a chi può pagare un prezzo più alto se incrocia il virus allora qual è la mia opinione anche qui con totale con totale trasparenza io penso che l'Italia debba provare a raggiungere l'immunità di gregge con la persuasione io non so come andrà a finire poi vedremo quali saranno gli strumenti finali che attiveremo ora abbiamo poche dosi dobbiamo scegliere a chi darle io poi penso che con una campagna vera in cui spieghiamo fin in fondo perché è fondamentale fare questo vaccino perché interesse di tutti chiudere questa pagina drammatica del nostro paese e di tutti gli altri paesi del mondo io penso che possiamo provare a raggiungere l'immunità di gregge con questo tipo di impostazione quindi non partire dall'obbligatorietà ma è chiaro Fazio che sarà una valutazione che faremo nel corso dei mesi potrebbe essere io voglio raggiungere l'immunità di gregge per questo paese e voglio provare a raggiungerla con uno strumento che è quello della persuasione che è quello chiaramente che rispetta di più la piena libertà di tutti ma è evidente che l'immunità di gregge dobbiamo raggiungerla quindi lo valuteremo in corso d'opera ma anche perché non vaccinarsi potendolo fare secondo me è un gesto di egoismo inaccettabile nei confronti di coloro che davvero non possono vaccinarsi l'Italia ricordiamo è la terza il quarto paese al mondo con il tasso di letalità noi siamo il quarto paese al mondo con il tasso di letalità più alto perché abbiamo una popolazione più anziana evidentemente ma insomma è evidente che siamo più esposti prego ministro scusi mi consenta di dire fino ad ora al netto di ogni stereotipo e spesso ne abbiamo ascoltati tanti di stereotipi su noi stessi sugli italiani insomma la mia personale opinione è che soprattutto nei mesi più difficili quelli drammatici in cui veramente eravamo in clamorosa difficoltà ma anche in queste ultime settimane in cui vediamo qualche primo segnale gli italiani hanno dimostrato che di fronte alle difficoltà tirano fuori il meglio di sé io voglio riconoscerlo e allora anche per questo vorrei esprimere un sentimento di fiducia io credo che possiamo arrivare all'immunità di gregge ad una vaccinazione significativa con lo strumento della persuasione questo sarebbe una grande prova di maturità e tra l'altro è la strada che in questo momento mi risulta scelta da tutti gli altri paesi europei lei mi dà anche ahimè però temo credito quando le dico che poi quando si ascoltano però in televisioni negazionismi più o meno autorevoli insomma è difficile raccapezzarsi del tema che le riferivo poc'anzi due cose sul vaccino ormai è diventato un luogo comune il freddo la catena del freddo saremo pronti poi con i frigoriferi che lo ospitano perché sarebbe un paradosso avere il vaccino ma non poterlo conservare e soprattutto quest'altro paradosso che in Italia mancherebbero aghi e siringhe per il vaccino altri paesi li hanno già preventivamente ordinati noi non ne abbiamo speriamo sia uno scherzo allora anche su questo primo ci sono sei vaccini su cui c'è un contratto ho già firmato in corso da parte della commissione europea anche a nome dell'Italia a nome di tutti i paesi europei e mi faccia dire che siamo stati noi italiani insieme ai tedeschi in modo particolare ma anche a Francia Olanda ad essere il motore di questo lavoro se oggi ci sono tutti questi contratti sottoscritti è soprattutto perché c'è stato un motore svolto dalla prima alleanza nel mese di maggio per i vaccini da Italia Francia Germania e Olanda di questi sei vaccini solo uno ha quel limite di temperatura a cui lei ha fatto riferimento ed è il vaccino Pfizer che è un vaccino importante perché sarà tra i primi ad arrivare ci stiamo lavorando il commissario Arcuri è molto impegnato su questo e ci sono tutte le condizioni per poter gestire questa catena non del freddo ma una catena del gelo perché la temperatura a cui conservare questo vaccino è meno 75 gradi quindi una temperatura molto impegnativa questa però caratteristica vale per uno dei sei vaccini per gli altri vaccini non c'è questo stesso problema ciò non toglie che c'è da organizzare una macchina logistica che è molto molto complicata su gli aghi e le siringhe nel mese di luglio l'Unione Europea ha aperto una colla a tutti i paesi per fare una gara comune viene chiamata joint procurement cioè una gara in cui i paesi europei anziché farsi la guerra l'uno con l'altro e io ho sempre chiesto in sede di riunione dei ministri dell'Unione Europea che si procedesse esattamente così che si potesse fare un'unica grande gara europea questa gara è in corso noi siamo convinti che avrà un esito positivo nel frattempo chiaramente il commissario Arcuri lavora anche incessantemente per provare a costruire un'autonomia e una solidità dell'Italia anche a prescindere da quella gara ma quella gara è in corso e me lo faccia ribadire in modo giusto di procedere io l'ho detto dall'inizio a tutti i ministri noi siamo c'è una gara europea di cui noi facciamo parte che io sono convinto avrà esito positivo e la strada è giusta noi non dobbiamo fare una gara tra paesi che finirebbe solo per alzare il prezzo di questi beni noi siamo l'unione europea sono cose che servono a tutti e c'è una gara che è già in corso e che io mi auguro abbia esito positivo ciò non toglie che nel frattempo c'è anche un lavoro di natura nazionale che è in corso ministro vorrei fare ancora affrontare almeno tre argomenti e le chiederei la cortesia della sintesi uno riguarda il problema della terapia intensive perché negli ospedali al di là della terapia intensiva in sé mancano i medici chi vede la televisione sta vedendo continuamente la pubblicità in cui si cercano in ogni modo di reperire nuovo personale addirittura fra i pensionati insomma è una lezione importante questa anche rispetto al numero chiuso nelle università per medicina insomma c'è qualcosa che va corretto profondamente assolutamente guardi si può comprare un respiratore si può comprare un ago una siringa si può comprare una mascherina non si può comprare un medico e soprattutto non si può comprare un medico specializzato anche qui bisogna dire la verità con grandissima serenità in Italia è stata vigente per 15 anni una norma che ha bloccato la spesa per il personale sanitario per il personale sanitario cioè la cosa più importante che abbiamo a quella del 2004 meno l'1,4% cioè noi abbiamo avuto una camicia di forza per 15 anni che ha detto alle regioni e alle aziende sanitarie non potete spendere per il personale sanitario per medici infermieri professionisti tecnici di laboratorio più di quello che spendevate nel 2004 meno l'1,4% questa cosa qui non è risolvibile con la bacchetta magica anche qui io sono perché la politica chi è nelle istituzioni come me che ho la responsabilità di fare il ministro deve dire fino in fondo la verità possiamo andare a comprare i respiratori giustissimo lo abbiamo fatto possiamo comprare gli aghi le mascherine tutti i camici giustissimo un medico non si improvvisa un medico non si compra al mercato e se tu hai fatto politiche di mancati investimenti per un tempo così lungo oggi paghi un prezzo e questa è la grande questione con cui abbiamo a che fare dobbiamo cambiare non c'è dubbio io no è chiaro il suo pensiero ma dico a questo proposito sul tempo che scorre in vano secondo lei per esempio anche vedendo la situazione della Calabria cioè quest'estate si è perso tempo per esempio per reperire medici o per mettere mano alla situazione in Calabria cioè come è possibile che il governo mi consenta la semplificazione sbagli tre commissari su tre adesso si fa il nome dell'ex prefetto Paolo Tronca tra l'altro le chiedo se è plausibile questo nome cioè come è possibile non accorgersi di quello che succede in una regione con una situazione molto critica rispetto alle strutture sanitarie pubbliche quelle private sono un'altra cosa guardi due settimane prima che diventasse in qualche modo clamorosa questa vicenda dei commissari che spero potremo risolvere nel più breve tempo possibile è stato approvato dal Consiglio dei Ministri quindi prima che ci fosse tutta questa vicenda clamorosa un decreto apposito dedicato alla sanità calabrese un decreto che mette nuove risorse perché c'è bisogno di investimenti che dà finalmente più strumenti per spendere le tante risorse che ci sono perché soprattutto sull'edilizia sanitaria ci sono tantissime risorse non spese ancora una volta in una somma molto lunga di anni dà più flessibilità di manovra e più poteri al commissario stesso che potrà intervenire con maggiore determinazione quindi in realtà c'è stato un lavoro significativo e io sono convinto che con questo decreto noi saremo finalmente nelle condizioni di aprire una pagina nuova in quella regione che è una regione fondamentale e una regione su cui dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo dopodiché io mi auguro che nei prossimi da qui a pochissimo saremo nelle condizioni anche di avere una guida nella persona di un commissario ad acta che riesca diciamo a guidare questo processo ma con una consapevolezza che una persona non basta c'è bisogno di quel decreto che oggi è in discussione alla Camera dei Deputati e quindi dovrà essere ancora convertito in legge e abbiamo bisogno chiaramente anche in questo caso di una squadra perché non basterà una persona ma posso chiedere se il nome di Paolo Tronca è un nome plausibile? ma guardi io non credo che sarà questa l'opzione definitiva ma c'è ancora una discussione in corso ok signor Ministro un'altra cosa come sarà il nostro Natale tutti se lo chiedono perché il Presidente del Consiglio parla di un Natale sobrio parenti di primo grado si entra poi in un territorio dove si va a finire sulle rotelle sui banchi a rotelle perché il primo grado diventa complicato districarsi ma soprattutto le chiedo da una parte sentiamo appunto il Presidente del Consiglio che parla di Natale sobrio di evitare cena in famiglia e dall'altra riapriamo gli impianti scistici io ne sarei personalmente felice ma insomma avrei molte cautele anche qui non trova che ci sia una contraddizione insomma difficile da districare sì io credo che dobbiamo bisogno di tenere alto il livello di prudenza credo che dovremmo ancora una volta avere un grande livello di attenzione di sobrietà e provare a scegliere che cosa è veramente fondamentale a me dispiace dirlo in questi mesi spesso sono stato additato come quello delle chiusure quello che fa le ordinanze quello che in qualche modo ha dovuto anche fare le scelte più difficili però abbiamo visto che cosa succede se questo virus lo lasciamo circolare e anche qui con spirito di assoluta onestà se io venissi ora in televisione a dirle che sarà un Natale come gli altri che faremo esattamente tutto quello che abbiamo sempre fatto direi una cosa non vera prenderei in giro le persone io penso che sarà un Natale naturalmente diverso sarà un Natale molto più sobrio sarà un Natale in cui dovremmo comunque ridurre al minimo i contatti le relazioni con le altre persone dovremmo evitare spostamenti che non sono essenziali e è chiaro che far questo significa secondo me puoi essere coerenti con tutta una serie di altre cose ma ci si può traspostare banalmente da regione a regione per andare a raggiungere la famiglia questa è la domanda che tutti si fanno guardi per il modello che abbiamo costruito questo può avvenire soltanto se tutte le regioni andassero in zona gialla ma io penso che in questo momento dobbiamo evitare gli spostamenti che non sono indispensabili proviamo diciamo a pianificare anche le vacanze col massimo della prudenza perché ancora è lunga e dura io ho detto prima le prime dosi possono arrivare a fine gennaio ma queste dosi per esempio hanno bisogno di due iniezioni a distanza di tre o quattro settimane e poi c'è bisogno di un po' di tempo perché queste dosi abbiano effettivamente effetto c'è bisogno ancora di tempo c'è una fase di resistenza che non è breve e allora in questa fase di resistenza non breve noi dobbiamo chiedere alle persone di fare tutto il possibile limitiamo gli spostamenti all'essenziale limitiamo le attività a quelle che sono davvero fondamentali abbiamo ancora un minuto le volevo fare due domande la prima riguarda una domanda politica perché è appena uscito un'ultima ora in cui il ministro Gualtieri apprezza l'ipotesi di una disponibilità di Berlusconi a collaborare questa cosa la rassicura la rasserena circa la vita del governo? Guardi sulla vicenda dell'epidemia per me non esistono i colori politici sull'epidemia c'è il paese c'è la bandiera tricolore ci sono le istituzioni e dobbiamo giocare tutti dalla stessa parte io ogni giorno lavoro con presidenti che sono molto molto lontani politicamente rispetto alla mia cultura e alla mia storia ma sull'epidemia si lavora insieme su quel terreno io credo che bisogna assolutamente lavorare insieme altra cosa è la maggioranza di governo la maggioranza di governo è una maggioranza politica io credo in questa maggioranza politica e non credo che bisognerà modificare il perimetro di questa maggioranza ultima cosa ultima considerazione domani sarà il quarantesimo anniversario del terremoto in Irpinia una data che io mi ricordo bene ero già grandicello insomma me la ricordo benissimo è una data drammatica per il nostro paese la ringrazio per questa possibilità io domani avrei voluto essere a Balvano che è un comune della provincia di Potenza nella mia piccola Basilicata dove 40 anni fa crollò una chiesa e morirono 66 persone di cui tantissimi bambini avrei voluto essere in quella chiesa domani mattina per poter celebrare questo momento e purtroppo non potrò farlo perché non posso lasciare Roma in questa battaglia contro il virus però il mio cuore è esattamente lì e coltivare quella memoria significa non dimenticare cosa sono stati quei momenti e provare a rendere sempre le nostre comunità più forti per guardare con maggiore fiducia al futuro grazie Ministro buon lavoro e insomma magari ci rivediamo se avrà tempo e modo prima del sobrio Natale grazie grazie molte buona serata Filippo